Musica E TGPU Today, buongiorno, ben ritrovati, buon inizio di settimana. Partiamo come sempre dalle notizie del giorno, in particolare sotto i riflettori in questo momento la questione migranti, il ministro dell'interno Piantedosi sarà in Tunisia alla fine di aprile un modo per tentare di stabilire un piano volto a frenare il vertiginoso aumento delle partenze dallo stato magrebino diventato la rotta principale per migliaia di persone verso le coste italiane tra le principali ipotesi al vaglio addestrare uomini, fornire mezzi e aiuti finanziari. Intanto in Italia, a Lampedusa in particolare, la situazione è sempre più preoccupante l'hotspot ha accolto nelle scorse ore migliaia di profughi arrivati quando la capienza massima è di poche centinaia di persone sono iniziati i trasferimenti in altre località italiane quindi si guarda con attenzione anche a questi spostamenti e alla gestione pratica rispetto a quello che sono gli arrivi. E poi ancora le notizie del giorno ci portano a parlare di quanto sta accadendo in Israele lo vediamo anche sulle prime pagine dei giornali, ancora tensioni è stato chiesto al primo ministro Netanyahu di fermare la riforma della giustizia il premier parlerà oggi alla nazione e secondo i media potrebbe annunciare proprio lo stop alla riforma della giustizia fonti del governo dicono che la decisione del premier è già stata presa tanto che i leader della coalizione sarebbero già stati convocati intanto non si placano le tensioni tra poco andremo a leggere tutti gli aggiornamenti insieme sul fronte invece del conflitto tra Russia e Ucraina a questo punto ci spostiamo sul Corriere della Sera con la Nato che condanna l'escalation di Putin intanto sul terreno di scontro esplosioni si sono verificate nel Donetsk e nella regione di Zaporizia secondo il sindaco di Melitopol sono state colpite strutture dove si trova l'amministrazione russa secondo cui a seguito del bombardamento di artiglieria un edificio è stato parzialmente distrutto altre strutture sono danneggiate quattro persone sono rimaste ferite Vladimir Putin è convinto che l'Occidente stia oltrepassando tutte le linee rosse e persino le linee rosse più profonde fornendo armi all'Ucraina e intanto appunto la Nato condanna l'escalation di Putin questi i principali argomenti in questo momento sulle home page dei siti di informazione li andremo a leggere e ad approfondire insieme come sempre però facciamo ogni mattina andiamo anche ad aprire la nostra finestra sulla Lombardia questa mattina siamo in provincia di Como più precisamente siamo nel piccolo ma conosciutissimo e soprattutto grande comune di attrazione turistica siamo a menaggio con Vittoria Dolci Sì buongiorno Michela buongiorno ai nostri telespettatori esatto noi vi parliamo da menaggio sul lago di Como una perla incastonata sul territorio lariano un lungolago mozzafiato che si può vedere alle nostre spalle come dicevi te una tra le mete più gettonate dai turisti i turisti italiani ma anche ovviamente moltissimi stranieri lì è tappa per quanto riguarda appunto Vip non soltanto Giorgio Clooney che sappiamo essere un abitué del lago ma appunto tanti altri Vip che si regano durante la bella stagione estiva qui appunto a visitare questi luoghi e in particolare qui a menaggio ma come sempre prima di approfondire i diversi temi fra pochissimo appunto intervisteremo il vice sindaco di questo comune volevo leggerti la rassegna stampa ovviamente cartacea abbiamo il Corriere della Sera come anticipavi tu da studio in primo piano ancora la tensione il tema che riguarda i migranti continuano infatti le partenze il titolo d'apertura è dedicato a questo sbarchi, caos e sequestri i medici arrivano tante donne incinte altri naufragi almeno 29 le vittime poi ancora la guerra in primo piano con lo zar le parole di Putin l'Occidente oltre la linea rossa e poi la Nato che condanna come dicevi te l'escalation di Putin irresponsabile e poi ancora la fotonotizia dedicata invece allo sport in particolare al calcio alla nazionale a Malta qualificazione europea vittoria dopo il K.O. con gli inglesi e poi l'intervista al ministro appunto Tajani bisogna aiutare Tunisi la crisi spinge i barconi e ancora come vedi quindi torna in primo piano la vicenda che riguarda ovviamente i migranti volevo soltanto approfondire le prime due pagine del quotidiano che invece sono dedicate ancora una volta alla guerra lo scontro tra Russia e Ucraina ovviamente le parole che hanno scatenato appunto la reazione occidentale le parole appunto di Putin la verità di Putin un'asse occidentale per cancellarci lo zar vuole rafforzare la visione di una Russia sotto pressione minacciata dal rinnovato pericolo di agnientamento e poi appunto l'alto là che invece arriva dalla Nato il responsabile vuole solo nascondere i suoi fallimenti queste appunto le parole che arrivano dalla Nato che cerca in qualche modo di bloccare ancora una volta le parole offensive che arrivano invece da Putin ma tra pochissimo come ti anticipavo avremo come ospite il vice sindaco di menaggio con il quale approfondiremo ovviamente tutti i temi legati a questa splendida località a tra poco allora intanto veramente un'immagine bellissima quella che ci arriva da menaggio baciata dal sole dopo il maltempo della giornata di ieri e peraltro questa è una settimana che come hanno spiegato anche i meteorologi si apre con un fronte freddo sull'Italia rovesci temporali neve venti tempestosi da nord a sud la situazione viene poi ovviamente descritta dagli esperti e sicuramente una settimana in cui si parla di colpo di coda dell'inverno su gran parte del paese e staremo a vedere magari più tardi insieme che cosa ci riserveranno le prossime giornate anche in Lombardia e in provincia di Como diceva bene Vittoria parleremo di molti argomenti anche con l'ospite che tra poco la raggiungerà proprio perché il lago di Como si conferma già adesso che siamo ancora a fine marzo una meta turistica molto molto gettonata il weekend appena trascorso è stato anche il weekend delle giornate fai di primavera con tanti luoghi solitamente inaccessibili che rimangono aperti e quindi c'è stato un discreto movimento appunto a parte il meteo che ieri pomeriggio non è stato particolarmente favorevole in visita nelle location aperte dal fai abbiamo una telefonata con chi parliamo buongiorno sono sempre Emilia da Trezzano su Naviglio buongiorno signora Emilia buongiorno e sempre grazie per la compagnia grazie a lei ci dica avete abbastanza notizie e siete bravi perché non la fate come in altre abbastanza succinte e vi fate molto ben capire siete delle ragazze brave la ringrazio signora Emilia e capiamo bene cosa dite però io da donna anziana lei ci dà sempre molti spunti oggi di che cosa vuole parlare non anziana ho capito perché quando tu copri quasi un secolo fai delle distinzioni di vita e di chi ci comanda delle cose che stanno succedendo non c'è pioggia ma il vento quando voglio io la pioggia quando voglio io mangi se voglio io gli alimenti non hanno più lo stesso sapore tante cose gli sbarchi chissà mai perché non c'è parlano parlano qua Trezzano è venuta una da Roma a spiegare io non ho parlato per rispetto per rispetto ai presenti che sono i miei amici però ragazzi a me cosa vuole il tempo è quello che ho fatto però per voi giovani dovete aprire le orecchie e fate tesoro delle mistificazioni e bugie che questi governanti ci dicono perché tre quarti di disastro è voluto perché c'è il culto no i cittadini mi hanno votato ti rispetto e ti governo no ti ascolto se sbaglio no loro vanno avanti perché le notizie che arrivano a raffica fanno rabbrividire è tempo perso soldi persi qui la gente guarda quello che mi fa più paura la crisi nelle scuole perché tu formi la persona a scuola e se c'è le crisi a scuola la scuola dovrebbe essere gongolata seguita perché è lì che il cervello matura è questo che a me fa rabbia capito da persona anziana è questo che fa rabbia mangi mangi ma non si sente più il sapore della roba non sai cosa mangi chiarissimo il suo pensiero Emilia la ringrazio per il suo intervento chiudo perché ho anche gli altri ospiti grazie e buona giornata peraltro sul tema della scuola mi trovo anche molto d'accordo la scuola è sicuramente il luogo dove si deve investire si deve puntare di più perché è il luogo di formazione è il luogo di crescita è il luogo in cui i piccoli di oggi diventano i cittadini di domani e quando parlo di scuola parlo anche molto di organizzazione di docenti di cattedre vacanti di tutte le difficoltà che più di una volta abbiamo sottolineato anche con gli addetti ai lavori è sicuramente come dire uno dei settori che non vanno trascurati eppure alle orecchie agli occhi di molti quello che ci diceva Emilia ne è un esempio appare appunto molto molto trascurata torniamo subito a menaggio perché vedo Vittoria Dolci se non sbaglio in compagnia del vice sindaco sì esatto Michela siamo con Fabrizio Cereghini vice sindaco di menaggio allora quando siamo qua non possiamo non parlare di turismo non possiamo non parlare della bellezza del luogo che tanto vi ha parlato non possiamo appunto non toccare il fatto di queste strutture ricettive che ormai andiamo verso le festività pasquali si stanno attrezzando ovviamente per partire con la bella stagione la stagione turistica ma mi ricollego anche all'attualità perché qua all'incirca mi corregga se sbaglio vice sindaco all'incirca un anno fa abbiamo assistito ad un ride contro le proprietà immobiliari di Soloviev il conduttore russo amico appunto di Vladimir Putin era il periodo appunto delle sanzioni subito dopo purtroppo la guerra la guerra in Ucraina allora oggi sono tornati qui a Mienaggio i russi questa fetta di turisti è stata recuperata in qualche modo? Buongiorno innanzitutto guardi in questo momento che noi sappiamo i russi non stanno tornando non sono tornati qualcuno si è visto in giro ma per ora è molto calma il livello turistico russo non è quindi non siamo ai livelli diciamo pre guerra pre conflitto quando invece era un'importante fetta no effettivamente c'è qualche problemino esatto con la guerra esatto invece come va per il turismo vi state preparando qui oltre alla magnifica giornata che oggi si accoglie ma ci accoglie ma l'abbiamo detto si va verso le festività pasquali e il comune è in fermento i preparativi sono iniziati anche da tantissime attività commerciali qui presenti esatto noi siamo preparati siamo in fermento stiamo ultimando alcuni piccoli lavori pubblici e siamo pronti diciamo che la stagione sembra che non sia mai finita dallo scorso anno avendo avuto un inverno molto mite le case vacanze già da febbraio sono state aperte c'è stato il carnevale c'è stato un bello flusso sembra che la stagione si sia di molto allungata un turismo tutto l'anno ormai si va verso questa destagionalizzazione che era anche un po' l'agurio di questa categoria insomma di commercianti proprio affinché i turisti fossero presenti tutto l'anno all'interno di queste località esatto pur avendo qualche albergo chiuso pochi aperti problemi di personale evidenti un po' su tutto il lago ma diciamo che le case turistiche sono rimaste quasi aperte tutto l'anno ecco vice sindaco problemi carenza di personale oramai è un tema che abbiamo riscontrato più volte durante appunto il nostro peregrinare nella regione appunto Lombardia sono state messe in atto soluzioni diverse come si cerca di contrastare questo oramai noto problema perché esatto io non lo so delle volte non riesco neanche a capacitarmi di come si è arrivato a questo perché il discorso sarebbe molto lungo cioè un paio d'anni che effettivamente abbiamo dei grossi problemi a trovare persone che lavorino nel campo alberghiero ma come vorrete a riparti perché voi qui siete una zona super attrattiva dal punto di vista turistico appunto anche oggi abbiamo visto numerose la presenza appunto di turisti in città è numerosa sì io non lo so io stesso ho un'attività commerciale vabbè gestione familiare sì però non riesco a capire come mai sia successo questo o stia succedendo questo effettivamente magari è anche un lavoro di sacrificio di ore perché comunque ben remunerato cioè non è che però si fa fatica si fa fatica riscontrata anche voi da un paio di anni sì certo che si fa fatica ritornando invece diciamo ai turisti che arrivano allora da che parte del mondo arrivano in prevalenza qui su questa sponda del lago da tutto il mondo sarebbe diminuitivo dire da una parte conosciuto americani argentini certo i tedeschi gli inglesi i nostri vicini di casa la fanno un po' da padrone diciamo però diciamo arrivano un po' da tutto il mondo ho avuto la fortuna di conoscere una marea di persone in questi anni poi fai la piccola intervista come va come non va se ti trovi bene se il paese è in ordine se il turito e che io personalmente queste cose ci tengo molto ecco certo anche perché appunto il turismo è importante ed è vitale per questa realtà esatto diciamo che la cartolina del turista è il paese quando arriva dice uh che bello certo senta nel corso degli anni proprio per appunto cercare di migliorare questa perla questa già perla che ambientalmente già offre tanto e naturalmente già offre tanto lei mi parlava anche fuori onda di moltissimi percorsi anche per quanto riguarda gli sportivi gli amanti anche appunto dello sport sì diciamo che durante l'inverno abbiamo lavorato con un gruppo anche di volontari su questi sentieri che portano diciamo nelle nostre bellezze qui sopra a Menaggio che va dalla Crocetta a Paullo al rifugio del Montegrona ci teniamo a queste cose si lavora molto sullo sport nel limite del possibile abbiamo fatto una pista di Pantrac che per dirla in parole povere era una pista di biciclette dove il 7 di ottobre avremo una gara a livello nazionale abbiamo avuto in questi anni anche la crescita del Paddle che è uno sport emergente abbiamo fatto il primo Paddle in tutta la zona nel centro sportivo di Livoine poi ne ha seguito un altro diciamo quindi come la comunità anche si attrezza andare incontro a quelli che poi sono i gusti anche a rispondere a quello si cerca di rispondere anche su queste cose perché è la richiesta turistica rimanendo sempre sul fronte turismo ma allargandoci ovviamente anche alla cittadinanza quindi anche ai residenti qui di Menaggio sappiamo sono partiti i lavori per la variante della Tremezzina rimaniamo sempre quindi sullo stesso lato quindi sullo stesso ramo del lago di Como si è aggiornato da poco la fine dei lavori fine dei lavori prevista per l'aprile del 2028 qual è l'impatto che crea anche a voi al vostro comune alla vostra comunità ma diciamo che in questo momento non si è ancora verificato questo impatto ma sarà alla grana lunga un problema comunque perché da Como venendo verso Menaggio tutta la Tremezzina c'è un semaforo senso alternato porterà dei disagi però come sempre per avere una cosa devi essere a disagio su un'altra ecco vedremo certo gli anni d'anno 26 27 28 ce lo si augura anche sul fronte turistico potrà creare influire qualcosa di sicuro poi porterà di sicuro beneficio quel giorno che sarà finita questa questa variante della Tremezzina ecco chiaro chiaro questo è l'intento però indubbiamente anche sul fronte viabilistico perché parliamoci chiaro è quello l'unico senta ritornando ancora a parlare ovviamente di turismo e di presenze note inutile dirla appunto citarle Giorgio Clune che appunto è un frequentatore di queste zone ci può svelare anche qualche altra visita importante qualche altro VIP che avete avuto il piacere e l'onore di accogliere ma diciamo che sì George Clune fa da padrone ormai padrone di casa un po' del lago viene al nostro golf che è comunque storicamente il secondo golf d'Italia e turisticamente ha delle attrazioni non particolari George Clune so di Jennifer Lopez lo scorso anno col suo compagno che è arrivata tranquillamente in piazza con uno scooterino si è mangiato il suo gelato poi mi risulta anche di altri personaggi che sono arrivati tranquillamente se ne sono andati senza pubblicità né niente è comunque un'attrazione vedi il personaggio vivendo anche in un'isola abbastanza felice non lo si disturba neanche più di tanto chiaro senta siamo oramai usciti a fatica appunto da questi due dai due anni di pandemia abbiamo visto come sono state cambiate le nostre vite ma anche le nostre abitudini un paese un mondo insomma si è fermato diciamo oggi quali sono le aspettative per i prossimi anni ovviamente anche in questo caso parlando di turismo cosa si prevede per questa stagione che oramai come diceva lei di fatto non iniziano e non finiscono più perché è tutto l'anno però qual è il sentore? il nostro sentore è che si va solo a migliorarsi diciamo sul nostro lago ecco perché bisogna lavorare su servizi su servizi vuol dire locali navigazione taxi questi si chiamano servizi tu devi dare servizi al turista ecco perché è nato un consorzio turistico che si sta lavorando su queste cose i servizi sono una cosa fondamentale di un paese turistico perché appunto alla carenza di personale si aggiunge poi anche non una carenza però una difficoltà anche in avere dei servizi appropriati dal punto di vista del trasporto pubblico per le esigenze dei turisti stessi ma anche dei cittadini poi volendo in questo modo come amministrazione come vi siate mossi? ci siamo mossi appunto trovandoci su dei tavoli ragionando con la navigazione dando qualche licenza per motoscafi privati taxi privati si cerca di lavorare non è facile neanche trovare il bandolo della Matessa su queste cose però ci si ragiona ecco pronti per questa nuova stagione turistica? prontissimi pronti ad aspettare nuovi turisti anche BIP magari che anche quest'anno noi a Mianaggio siamo prontissimi crediamo di essere un paese molto ospitale si cerca di copolare il turista nel limite del possibile chiamiamo un'agenzia turismo i locali ci siamo diciamo che siamo pronti siamo sul pezzo siamo pronti Michela se non ci sono altre domande da parte tua noi ti restituiamo la linea ci riaggiorniamo allora più tardi io proseguo con la rassegna stampa online perché ci sono degli aggiornamenti in primo piano su ansa.it lo sbarco autonomo di migranti a Roccella Ionica arrivati in 650 parliamo di un comune della città metropolitana di Reggio Calabria sono tutti uomini a bordo di un peschereccio partito dalla Libia e allora andiamo a leggere insieme l'articolo sono arrivati in 650 nella notte all'interno del porto di Roccella Ionica a bordo di un peschereccio di 30 metri partito dalla Libia sfuggendo ad ogni controllo i migranti dell'ultimo sbarco nella Locride tutti uomini provengono da Siria Pakistan Egitto e Bangladesh e hanno viaggiato per circa 5 giorni prima di entrare in porto e andare a sbattere contro un'altra imbarcazione utilizzata in un precedente arrivo i profughi che sarebbero tutti in buone condizioni di salute sono stati sistemati al momento su una delle aree del porto vicine alla tensostruttura all'interno della quale sono momentaneamente ospitate altre persone giunte con gli sbarchi nei giorni scorsi ci sono le parole del vicepremier e ministro Matteo Salvini è l'Italia sotto attacco con le ONG lo ha detto il ministro dell'infrastruttura a margine di un incontro a Triestre se ci sono dichiarazioni della guardia costiera piuttosto che della marina che sono corpi orgogliosi dello Stato che lamentano che il lavoro viene ostacolato va preso in considerazione ma il problema sono i trafficanti e gli scafisti non altri non le ONG viene chiesto se le ONG complicano il lavoro dei nostri marinai sicuramente il problema si pone sicuramente ha aggiunto Salvini l'immigrazione non può essere regolata da organismi privati finanziati da paesi stranieri questo è poco ma sicuro e queste dunque le parole di Salvini andiamo rapidamente appunto anche a guardare la home page dell'ANSA come vi dicevo appunto la notizia che abbiamo appena letto insieme è in apertura subito dopo si parla delle proteste in Israele il Premier parla alla Nazione ve lo dicevo poc'anzi potrebbe bloccare la riforma della giustizia stop ai voli in partenza crepe nel governo e poi c'è l'economia la First Citizens rileva gran parte della Silicon Valley Bank annuncio che è arrivato appunto nelle scorse ore le 17 filiali riapriranno oggi nella nuova veste e guardando la home page di ANSA vedete anche assieme a me qui cambiamo decisamente argomento si parla di un lutto nel mondo dello spettacolo è mancato Ivano Marescotti una vita per cinema e teatro l'attore insomma un volto notissimo anche per moltissime pellicole a cui ha preso parte 77 anni era da qualche giorno ricoverato a Ravenna ed è appunto mancato nelle scorse ore volevo anche e qui cambio di nuovo argomento ritornare a quanto dicevano Vittoria Dolci e il vice sindaco di menaggio sul tema del turismo e delle difficoltà legate al mondo turistico che sono difficoltà per quanto riguarda la carenza di personale quindi la difficoltà nel reperire e nel poter avere a disposizione insomma personale qualificato nei diversi settori della ricezione e anche delle difficoltà in termini di servizi e soprattutto di servizi di trasporto allora proprio nei giorni scorsi ne abbiamo parlato anche noi nel nostro telegiornale nella giornata di sabato proprio dal lago di Como arriva un appello e parte dal sindaco di Tremezzina Mauro Guerra nonché presidente di Anci Lombardia l'associazione nazionale dei comuni italiani che parla proprio di turismo e di carenza di personale sul lago di Como Guerra si appella alle istituzioni leggiamo insieme alcuni passaggi della sua lettera che ha pubblicato proprio nelle scorse ore e con l'avvio della stagione più intensa per quanto riguarda i flussi turistici sul lago di Como appaiono ancora più evidenti due problemi del territorio e cioè come dicevamo la carenza dei servizi della mobilità e la carenza di personale nel settore dell'ospitalità a sottolineare la necessità di trovare quanto prima una soluzione è il sindaco di Tremezzina e presidente Lombardo dell'associazione nazionale comuni italiani Mauro Guerra che scrive la crescita dei flussi e della domanda turistica sul lago di Como hanno assunto dimensioni imponenti e richiedono un'accelerazione delle capacità del nostro territorio di dare risposte adeguate spiega in una lettera rivolta alle forze economiche sociali e alle istituzioni se non ce la facessimo continua guerra rischiamo di giocarci la prospettiva gli operatori del settore cercano personale e non lo trovano situazione aggravata anche dalle enormi differenze salariali con la Svizzera che sottrae mano d'opera dice ancora Guerra che in questo quadro pone quindi di concentrarsi sul fronte contrattuale del settore serve lavorare ad un regime per il quale alle imprese e aziende che trasformano una o più assunzioni stagionali in assunzioni annuali sia riconosciuta una riduzione degli oneri contributivi nella misura della NASP utilizzando invece quelle risorse per garantire la contribuzione integrale ai lavoratori la proposta di guerra prevede niente oneri in più per il bilancio dello Stato che anzi guadagnerebbe dal maggior gettito fiscale e minori costi per gli imprenditori incentivati a prolungare l'attività l'attenzione è rivolta tutta ai redditi alla stabilità e alla sicurezza dell'occupazione per i lavoratori e per le loro famiglie e sempre secondo il presidente Bianci Lombardia ad una fidelizzazione del rapporto con gli operatori salari adeguati e stabilità occupazionale parlano di diritti salvaguardati di qualità del lavoro e di una economia che cresce in modo equo e sostenibile dice ancora guerra da tempo la discussione verte anche intorno al tema di una zona economica speciale e di interventi rispetto al dumping salariale con la Svizzera ma in questo caso guerra propone di partire da uno strumento che già esiste il distretto dell'attrattività turistica del centro lario istituito con decreto del ministero per i beni culturali e del turismo nel 2017 e riconosciuto dalla regione Lombardia è una misura che gode di una normativa specifica comprensiva di agevolazione incentivi e semplificazioni una sperimentazione di questa proposta è possibile conclude guerra che si dice disponibile a sottoporla ad un più ampio confronto territoriale e istituzionale e qui insomma vediamo la lettera aperta che ha appunto scritto il sindaco di Tremezzina riguardo a questi argomenti e quindi anche con le proposte di cui abbiamo letto insieme ora ci fermiamo per un istante ci ritroviamo subito dopo vi anticipo che tra poco torneremo a parlare di grilli di farina di grilli di tutto quello che insomma si sta muovendo attorno a questo argomento cercheremo di fare chiarezza su cos'è com'è dove la troviamo che tipo di vantaggi può avere se ne vale la pena effettivamente di introdurla nella dieta insomma tutte le domande che ci stiamo facendo tutti come dire non appena leggiamo una notizia rispetto a questo argomento cercheremo di farle a chi ne sa più di noi a tra pochissimo siamo di nuovo insieme subito apriamo la nostra pagina dedicata alla viabilità in collaborazione con Anas qualche aggiornamento che riguarda la strada statale 38 dello Stelvio viene segnalato un veicolo in avaria all'incrocio Le Prese in direzione dell'incrocio Trivio di Fuentes con la statale 36 del lago di Como e quindi di conseguenza si parla di traffico rallentato proprio su questo punto per ulteriori aggiornamenti è sempre possibile consultare il sito stradeanas.it oppure contattare il numero verde gratuito 800 841 148 questi i nostri aggiornamenti sulla viabilità e allora vi avevo anticipato poco prima della pausa pubblicitaria che ci saremmo occupati ancora una volta di farina di grilli che insomma sappiamo bene il dibattito è più aperto che mai in questi giorni guardate anche solo banalmente inserendo farina di grilli cosa sapere su Google le notizie che riguardano questo argomento quante sono farine di insetti l'allarme degli allergologi farina di grillo allergologi mettono in guardia la farina di grillo più scienza meno pregiudizi la farina di grilli è sicura ne vale la pena spaghetti di insetti alla carbonara ma prima si parla di quelle farine dolci alla farina di grillo i clienti apprezzano insomma le notizie riguardo a questo argomento sono numerose tutti ci stiamo un po' interrogando sull'argomento sappiamo che insomma ci sono popolazioni al mondo le popolazioni asiatiche che mangiano cavallette coleotteri formiche e quant'altro già da moltissimo tempo e insomma ci stiamo chiedendo siamo davvero pronti anche noi in Italia ad accogliere questo tipo di prodotti questi prodotti a base di insetti molti si chiedono sono sicuri come funziona anche la produzione e quant'altro lo chiediamo ad un esperto che ringraziamo per essere con noi do il buongiorno ad Agostino Macri consulente per la sicurezza alimentare dell'Unione Nazionale Consumatori buongiorno grazie per essere con noi buongiorno a voi tutti e buona giornata allora innanzitutto insomma al di là di quelli che sono i gusti personali al di là di quelle che sono anche le sensazioni rispetto a questo tema che sono molto diverse in questo momento che cosa possiamo dire sulla sicurezza di questi alimenti a base di insetti in particolare la farina di grilli se ne sta parlando moltissimo allora bisognerebbe cominciare con il dire che questo prodotto è un prodotto fatto da un'azienda in questo caso vietnamita il caso del grillo che questa azienda ha preparato una documentazione per dimostrare la qualità nutrizionale di questi prodotti e la sua sicurezza con una serie di studi che sono stati fatti in laboratori specializzati anche su animali da laboratorio in vivo su persone comunque una serie di dati che dimostrano la sicurezza di questo prodotto questa documentazione è stata valutata dall'EFSA dall'agenzia alimentare europea la quale ha dato un giudizio favorevole cioè dicendo che le documentazioni disponibili dimostrano che questo prodotto fatto da questa azienda in quelle condizioni è un prodotto che si può consumare senza nessun pericolo per la salute dei consumatori questa è la parte scientifica ovviamente l'Unione Europea ha recepito questo parere dell'EFSA e quindi ha consentito l'utilizzazione di questo prodotto che chiunque vuole può acquistare questa farina come ripeto farina specifica fatta da questa azienda e utilizzarla per gli usi che ne ritiene opportuno quindi o tal quale oppure come componente di altri alimenti quindi questa è la parte scientifica quindi non ci sono problemi l'unico problema che esiste ed è stato sottolineato è che questa farina essendo fatta con i grigli avendo i grigli un carapace cioè una struttura rigida che noi conosciamo in questi animali ebbene questa struttura potrebbe può creare problemi alle persone allergiche alla chitina a questo prodotto che fa parte del carapace quindi è quindi l'avvertenza da fare proprio questa potete mangiare la farina di grillo però le persone che sono allergiche debbano fare molta attenzione quindi questo è l'aspetto scientifico vero e proprio per quanto riguarda appunto la farina di grillo abbiamo letto stiamo leggendo che è un'ottima fonte proteica insomma dovremmo iniziare a pensare e a preferirla ad altre fonti proteiche che vale la pena investire in questa direzione allora uno dei grossi problemi che noi stiamo affrontando più ci dovremo confrontare nel futuro è proprio l'apporto di proteina nella nostra alimentazione attualmente viene coperta soprattutto delle proteine di origine animale che sono carne latte uova e derivati ovviamente e in parte anche dei vegetali soprattutto dei legumi la soia i fagioli lenticchie e così via sono quelli più ricchi di proteine ora questa quantità di proteine per il momento addirittura ne abbiamo un eccesso perché mangiamo troppo ne abbiamo veramente una quantità importante quando aumenterà il numero delle persone probabilmente dovremmo cercare di incrementare questa produzione di proteine e di vedere e non sappiamo se gli allevamenti animali possono essere sufficienti bisognerà incrementarli se ci saranno problemi ambientali cioè c'è una problematica veramente molto vasta per cui l'utilizzazione di queste fonti alimentari alternative potrebbe risultare utile ma ci potrebbe essere anche la produzione della farina della carne sintetica cioè ci sono tutta una serie di cose diciamo di tecnologie che in qualche modo potrebbero cercare di sopperire a questa presumibile e probabile carenza proteica quindi bisogna attersarsi in tempo e capire come stanno le cose ovviamente come lei accennava all'inizio diciamo le fonti alternative i grilli i scarafaggi e altre cose vengono mangiate in altri in altri continenti in modo importante però ricordiamo che anche da noi esiste un consumo di insetto a parte quello mascherato della presenza di insetti come contaminanti di farina che possiamo trovare diciamo in modo del tutto involontario nei nostri alimenti ci sono degli alimenti che noi consumiamo abitualmente è vero e lì mi sta portando lei perché volevo arrivarci anch'io a questo argomento perché lo abbiamo letto anche in questi giorni proprio perché il dibattito è molto acceso su questo tema ci sono tanti argomenti e tanti generi alimentari che assumiamo abitualmente e magari appunto non siamo consapevoli che all'interno possono contenere tracce anche di insetti ecco però io diciamo tutti quanti parlano molto del tenebrio molitor e degli altri insetti che contaminano la farina e peraltro il tenebrio molitor è un altro insetto di quello di cui l'Unione Europea e l'EF ha dato un parere favorevole ed è possibile utilizzarlo tal quale nella nostra alimentazione però noi abbiamo degli alimenti di cui non se ne parla molto ma non so per esempio il formaggio con i vermi sardo ebbene lì per alcuni è una specialità alimentare addirittura viene molto richiesto la commercializzazione strana però in effetti lo si trova sul mercato e lì sono larve di insetti sono larve di mosche ma non è soltanto in Sardegna che magari è quello più importante ma a me è capitato personalmente di vedermi offrire in Abruzzo il marcetto che è appunto un formaggio con i vermi che viene prodotto in Abruzzo ma ci sono anche altre regioni italiane che producono mi sembra che si chiami saltarello quello che viene prodotto in Friuli ecco quindi noi abbiamo questi insetti che consumiamo e poi forse adesso che si adoperano molti pesticidi i vari insetticidi in agricoltura non c'è più non c'è più la frutta con il verme dentro ma questa è una qualcosa che era abbastanza diffusa nel passato chi ha la mia stessità ricorda che da bambino se mangiavamo le ciliegie bisognava prima togliere i vermi e poi ti mangiavi le ciliegie insomma quindi sono cose che attualmente non so i funghi i funghi forcini è difficile trovarli non contaminati con i vermi e quelli pure noi ce li mangiamo diciamo che io personalmente se devo esprimere un mio parere non sono non credo che mangerò mai il prodotto con la farina di grillo deliberatamente però questo quindi c'è un aspetto però bisogna bisogna comunque rendersi conto che poi tutti questi problemi di carattere sanitario non ci sono insomma anzi ci sono degli argomenti di ribrezzo di cui bisogna tenere conto bisogna informare il consumatore bisogna dirgli correttamente quello che c'è dentro poi sceglie lui quello che fa chiaramente professore un'ultimissima battuta perché si sta parlando anche molto rispetto a questo tema del timore alcuni timori che sono stati sollevati riguardo alla possibilità che queste nuove introduzioni possano minare in qualche modo il made in Italy la dieta mediterranea e quant'altro è davvero così? ma io su questo ho qualche perplessità non credo che sia che sia così anche perché poi è il consumatore che sceglie noi siamo la nostra dieta mediterranea mi sembra che non è che sia poi tanto da tanto seguita se andiamo a vedere quello che mangiamo attualmente tutta la roba esotica che arriva nei nostri piatti non credo che siano questi che possa diciamo la farina di grillo che possa alterare la nostra i nostri comportamenti io non sono un economista e non so in che modo possa in qualche modo alterare le produzioni nazionali però io so soltanto che in questo momento noi stiamo importando un sacco di materie prime importiamo circa il 40% del grano duro con cui facciamo la nostra pasta importiamo circa il 77 0 di pesce che noi consumiamo importiamo il latte importiamo anche la frutta la verdura insomma quindi ci troviamo in una situazione per cui importiamo la soglia e il mais con cui alimentiamo i nostri animali insomma direi che c'è un grosso problema che può essere rappresentato da questa farina mi sembra al momento non mi sembra un pericolo concreto professore la ringrazio per essere stato con noi è stato chiarissimo buon lavoro e buona giornata grazie altrettanto a voi e buona giornata a tutti e allora appunto ringraziamo il professore Agostino Macrigia direttore del dipartimento di sanità alimentare dell'istituto superiore di sanità e consulente per la sicurezza alimentare dell'unione nazionale consumatori tra poco riprendo in mano la nostra rassegna stampa online prima però torno a menaggio da Vittoria Dolci sì esatto Michela siamo con Ludo che lavora in un'attività sul lungolago di menaggio allora chiedo come sta andando il turismo tra pochissima appunto e Pasqua si apre questa stagione turistica anche ovviamente qui in questa località allora devo dire che stanno già iniziando ad arrivare molti turisti ultimamente soprattutto post covid la stagione inizia prima io personalmente sono una fan delle cose come erano prima ma penso un po' tutti pre covid perché è proprio cambiata l'idea di vacanza proprio nella mentalità delle persone come è cambiata? allora prima di tutto qua come zona il lago di Como vabbè è sempre stato rinomato e famoso ma adesso hanno tantissimi posti alberghi sono più pensati per persone che si possono permettere un altro genere di vacanza quindi ci sono persone molto più ricche che possono permettersi di spendere molto di più però questo secondo me penalizza poi le persone che abitano qui quindi è soltanto per un certo tipo di turismo molto in Italia esatto quello che vedo adesso è comunque hanno aperto tanti alberghi adesso ci saranno delle nuove aperture anche e soprattutto verso Bellagio però appunto pensate per uno standard per un'elite molto alto e vengono penalizzati oltre ai locali cioè noi che abitiamo qui anche secondo me tante altre persone che potrebbero venire sul lago ma ovviamente non tutti se lo possono permettere anche i turisti italiani esatto semplicemente che magari arrivano da altre regioni ma penso anche soltanto qualche anno fa c'erano tantissimi ragazzi zaino in spalla che facevano proprio un turismo diverso dove magari andavano più volentieri in montagna piuttosto che a fare la gita in barca poi io vengo da un paesino più in alto di qua vicino alla Valsanagra e mi piacerebbe vedere più gente di nuovo verso il fiume le montagne che sul lago quindi ecco tu stai dicendo un turismo come hai detto molto elitario che magari va a discapito anche di persone che ovviamente non hanno un budget di questa portata ma soprattutto anche i ragazzi il mondo dei giovani che sappiamo parlando prima con il vice sindaco del comune di menaggio ci ha spiegato anche che sì una meta turistica indubbiamente ma che deve fare i conti come tantissime altre località turistiche con la carenza di personale più che altro sono molti appunto le ristoranti le attività commerciali che non riescono a trovare appunto personale ma anche dall'altra parte i servizi pubblici come la gestione del servizio pubblico che non riesce appunto a soddisfare anche quelle che sono poi le esigenze non soltanto di turisti ma anche dei cittadini stessi allora per quanto riguarda la difficoltà nel trovare personale allora il problema è che chi ha un'attività dovrebbe anche mettersi nei panni di una persona che poi va a lavorare per la stagione perché si parla di tantissime ore di essere veramente sempre sul pezzo sempre sempre molto di corsa con pochissime ore libere e tanti in tanti posti anche magari senza davvero un giorno libero quindi è l'offerta quindi bisognerebbe trovare un compromesso perché noi che abitiamo qua sappiamo benissimo che la stagione è un momento dove si lavora moltissimo però è giusto anche retribuire le persone col giusto stipendio stipendi ma anche come dicevi anche appunto vivibilità un giusto compromesso quindi anche un'offerta che dovrebbe essere maggiormente aperta anche a queste soprattutto perché appunto si lavora tanto all'estate però poi d'inverno qua è molto 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 tranquillo certo immaginiamo quel periodo poi tanti posti comunque chiudono prego c'è una domanda da studio sì volevo semplicemente chiedere alla tua ospite visto che è un tema che abbiamo affrontato anche in altre realtà del lago di Como abbiamo detto ci sono questi flussi turistici importanti e meno male che ci sono insomma dal punto di vista economico sono un incentivo fondamentale ma per chi vive a menaggio per chi vive in questi paesi ci sono delle ripercussioni cioè faccio un esempio sappiamo che all'aglio c'è stato un effetto clunei su tutto anche sui prezzi degli immobili tant'è che magari fanno fatica delle giovani coppie ad acquistare in questo momento una casa all'aglio certo la domanda che ci arriva dalla collega in studio è sì sappiamo che indubbiamente menaggio come altre località del lago di Como sono tra le più gettonate dai turisti ma poi chi vive effettivamente qui chi risiede qui è un po' penalizzato da come dicevi tu appunto da questo effetto un esempio che facevamo era appunto la residenza di clune all'aglio all'aglio che poi ha scatenato il cosiddetto effetto clunei quindi tutti i prezzi che si sono alzati quindi anche le difficoltà di giovani coppie che magari vogliono iniziare a costruire una vita insieme quindi a comprare una casa capita a fagiolo questa domanda perché io ci ho messo da settembre fino a una settimana fa a trovare una casa io sono tornata da Milano ero già quattro anni che abitavo da sola e sono dovuta tornare a casa dei miei genitori perché è impossibile impossibile e inaccessibile trovare un appartamento in zona da i prezzi al fatto che tutti quelli che hanno un buco per metterci dentro un materasso adesso lo affittano a breve termine quindi subite la presenza è un'arma a doppio taglio il turismo in una zona del genere bellissimo è bello anche conoscere tante persone nuove porta sicuramente guadagno è bellissimo da quella parte lì ma dall'altra cioè io ho 28 anni quest'anno e tornare a casa dei miei per sei mesi è stato abbastanza traumatizzante no certo però adesso ho trovato qualcosa fortunatamente domani faccio il trasloco e comunque arrivare da Milano viva il lupo arrivava da Milano dove i prezzi sappiamo non essere non sono riuscita a tornare la mia idea era di rimanere qua ad agosto e fare la vacanzina tornare a Milano ma hanno alzato i prezzi di nuovo è sempre la stessa cosa qua sono diventati tutti matti per i prezzi per anche la concorrenza per poi chi affitta a breve termine e quindi tutto si alza tutto si è alzato grazie Ludo e buon lavoro ti restituiamo la linea grazie se riusciamo torniamo a menaggio tra pochissimo ancora io ho un rapido sguardo ancora alle testate online in questo momento sono su Ansa Lombardia parliamo di un fatto di cronaca di cui insomma abbiamo parlato molto tempo fa perché è partito il processo la zia della bimba morta di stenti mia sorella paghi questo è il titolo di ansa.it Diana era la bambina più bella del mondo non meritava tutto questo lo ha detto ai cronisti Viviana Pifferi sorella di Alessia la 37enne che era presente questa mattina alla prima udienza del processo in cui è accusata di omicidio volontario aggravato per aver lasciato morire di stenti la bambina di quasi un anno e mezzo abbandonandola da sola in casa per giorni la sorella anche lei in aula in corte d'assise a Milano e con una maglietta addosso con stampata la foto della nipote e la madre della 37enne nonna della piccola saranno parti civili nel processo contro Alessia Pifferi e questa notizia l'abbiamo letta appunto danza.it ma è in questo momento anche sulle pagine del Corriere di Milano e a proposito delle pagine del Corriere di Milano c'era un'altra notizia che volevo leggere e approfondire assieme a voi quindi dalla cronaca passiamo alla sanità c'è un articolo di Sara Bettoni che parla proprio degli ospedali degli ospedali migliori in Italia secondo Newsweek IEO Istituto dei Tumori e Niguarda al top della classifica quindi siamo in Lombardia sentiamo sempre parlare dell'eccellenza della sanità lombarda in questo caso insomma viene anche certificato per l'oncologia i due ospedali milanesi sono tra i primi 20 al mondo considerati due eccellenze il Niguarda è la miglior struttura pubblica italiana andiamo a leggere insieme qualche passaggio dell'articolo gli ospedali milanesi si fanno strada nelle classifiche World's Best Hospitals 2023 e World's Best Specialized Hospitals 2023 stilate dalla rivista Newsweek e dalla società di ricerche statistica nella graduatoria generale il Niguarda è la prima struttura pubblica italiana si piazza al sessantesimo posto tra i 2300 ospedali analizzati di 28 nazioni anche se retrocede di 10 posizioni rispetto all'anno precedente il San Raffaele in risalita sul 2022 segue al 64esimo gradino l'Humanitas all'89esimo ma ha perso terreno entrambi sono privati guardando le classifiche per specialità in oncologia lo IEO anch'esso privato si colloca in dodicesima posizione su 300 strutture prese in considerazione l'Istituto Nazionale dei Tumori pubblico al 17esimo l'Humanitas al 25esimo per quanto riguarda la pediatria il Buzzi è 43esimo su 200 il Galeazzi che è privato 25esimo su 125 per ortopedia il Monzino privato 20esimo su 150 per cardiochirurgia la classifica tiene conto dei suggerimenti dei medici delle recensioni dei pazienti e di alcuni dati sulla qualità delle cure e questo insomma sono dati che ben apprezziamo rispetto appunto alle cure mediche in particolari campi in Lombardia siamo ormai sempre più abituati a sentir parlare di una sanità che anche in Lombardia arranca in difficoltà con tutte le problematiche che costantemente affrontiamo anche con diversi ospiti abbiamo visto anche durante la campagna elettorale in regione Lombardia quanto la sanità sia stata come dire un terreno su cui tornare e ribadire le necessità e le difficoltà perché quotidianamente i cittadini segnalano delle liste di attesa infinite per alcune visite la carenza dei medici di base è un altro grande tema che spesso affrontiamo il fatto che molti ospedali siano dovuti ricorrere anche a medici a gettone a chiamata per portare avanti il servizio e cercare di rispondere alle esigenze del territorio sono tematiche che sono state al centro della campagna elettorale e che sono adesso in cima anche all'agenda della nuova giunta lombarda con anche le indicazioni che già sono state date rispetto a questi temi alla riforma sanitaria alle case di comunità agli ospedali di comunità insomma tantissime le questioni che sono ovviamente sotto la lente di ingrandimento e alle quali si cercherà di dare risposta anche durante questi cinque anni molto poi lo sappiamo l'abbiamo detto più volte molte difficoltà sono emerse proprio durante la pandemia proprio nel momento in cui c'è stato più bisogno e nel momento in cui insomma abbiamo visto alcune situazioni di grandi difficoltà con i medici di base appunto che sono via via diminuiti per i pensionamenti e quant'altro che a un certo punto erano alle prese con i tamponi la burocrazia le visite i pazienti che chiedevano aiuto insomma difficoltà di cui come detto più volte abbiamo parlato insieme torniamo anche rapidamente a menaggio da Vittoria Dolci Sì Michela noi con questa suggestiva immagine volevamo salutarti da menaggio abbiamo sentito la voce dell'amministrazione la macchina comunale come si sta e si mette in moto per accogliere ovviamente i turisti ma anche appunto la parte dei residenti dei cittadini che si scontrano alcune volte invece con appunto questa fetta di economia così possiamo chiamarla appunto che riguardano i flussi turistici in questa meravigliosa location e questo è innegabile sempre molto gettonata ovviamente dai turisti e da menaggio è tutto allora chiudiamo il collegamento rapidamente in questo minuto che manca al termine volevo andare a vedere assieme a voi che cosa ci aspetta per quanto riguarda il fronte meteorologico nei prossimi giorni allora stavo cercando di andare a individuare nell'articolo di Trebimeteo quello che è il focus sul nord Italia intanto leggiamo il titolo cronaca forti temporali al centro sud grandine a Roma fronte freddo in serata situazione che viene raccontata da Trebimeteo puntuale come nelle attese il fronte atlantico che ha raggiunto l'Italia nella seconda parte della giornata di sabato si accinge in queste ore a interessare anche le regioni meridionali ha portato rovesci abbondanti di pioggia anche temporali la prima sulla Liguria con una serie di località che sono state toccate poi in molte altre regioni dell'Italia però volevo vedere assieme a voi appunto se c'era il dettaglio delle previsioni ecco forse le abbiamo trovate lunedì 27 rovesci temporali sparsi al centro sud domani lunedì eccoci qua la situazione al nord neve sulle Alpi di confine dai 900 ai 1200 metri soleggiato altrove ma con tendenza a piovaschi e serali tra Basso Veneto e Romagna venti forti da Fön temperature in calo massime tra 14 e 18 gradi anche sulla provincia di Como c'è l'allerta vento e per quanto riguarda la giornata di domani l'Italia è ancora prevalentemente soleggiata poco nuvoloso con veli e strati di passaggio e locali addensamenti sulle Alpi di confine temperature in calo con locali gelate notturne anche in pianura massime tra 11 e 15 gradi questa è la situazione invece legata al nord del paese tutti gli approfondimenti sono sempre a disposizione su Trabi Meteo termina qui la nostra mattina insieme tra poco la prima edizione del nostro TG alle 12.30 e TG P2 Day torna come sempre domani mattina alle 10.30 buona giornata e TG